È ovvio che in un momento così importante e di grandi difficoltà del nostro governo e della maggioranza e del PDL era importante dare un segnale di discontinuità. Angelino Alfano lo è, Angelino Alfano uno è un uomo del sud e questo a me piace moltissimo, due è una persona credibile, spendibile, quindi può sicuramente dare una svolta al partito. Dopodiché tutti noi dobbiamo collaborare con lui. Non è passato molto tempo da quando Gabriella Carlucci venne a Lecce dall'Aula Consiliare del Comune a nostri microfoni rassicurò tutti sull'operato del governo Berlusconi, soprattutto riguardo il piano per il sud e i suoi tempi faraonici. L'onorevole Gabriella Carlucci a quanto pare non ci crede più se ha deciso di abbandonare il Premier per rifugiarsi nel partito di Pier Ferdinando Casini, il giorno in cui proprio Casini da Roma apre ufficialmente al PD per un'intesa che non può trascurare un mondo politico più direttamente rappresentativo del mondo operaio e sindacale perché, secondo Casini, altrimenti significherebbe essere irresponsabili. Quindi una delle donne di Berlusconi va via, nonostante il Presidente del Consiglio avesse annunciato che chi lo abbandona è un traditore convinto che la sua maggioranza può portare a termine il mandato fino alla fine. L'ex subrette di Mediaset e poi dal 1994 parlamentare, attualmente sindaco in Puglia presso il comune di Margherita di Savoia, saluta tutti a Palazzo Grazioli ed auspica un governo di larghe intese, l'unica strada per salvare il paese. L'addio di Gabriella Carlucci mette ancora più in crisi la maggioranza dove si fanno i conti sui numeri che traballano. Ho cambiato la mia vita con grandi sacrifici familiari, ha dichiarato Gabriella Carlucci, perché ho creduto nella politica, ma non in quella che da qualche tempo non riesce a preoccuparsi di quanto drammaticamente sta accadendo. Insomma, se cominciano ad abbandonarlo, anche le presentatrici, significa che la situazione è davvero disperata.